We are a beautiful family, siamo una bella famiglia, we are a beautiful family, siamo una bella famiglia, with a positive energy. We are a beautiful family, siamo una bella famiglia, we are a beautiful family, siamo una bella famiglia, with a positive energy. La terra sta ballando al ritmo del corazon, del corazon baila. L'idea del progetto Chaudà nasce nel 2007 e si concretizzano nel 2008 con l'uscita dell'album Monet. Unne dà anche il titolo alla trilogia suddivisa in tre pubblicazioni. La prima pubblicazione l'abbiamo fatta nel 2008 con Unne 1, Unne 2 nel 2011 e adesso il 19 giugno presenteremo il nuovo album Unne 3. Niente, il Chaudà è un progetto un po' particolare perché diciamo che ha questo zoccolo siciliano contaminato. C'è un progetto multilingue, è un po' difficile anche da definire. Infatti propongo agli ascoltatori di cercarci online per capire un attimo il progetto Chaudà. La maschera per la suonatura rappresenta la fissità, cioè la maschera non ha espressione. Dietro questa maschera c'è l'ignoto, diciamo la verità, la verità che conoscono in pochi. Cioè in ognuno di noi c'è una maschera, in ognuno di noi si nasconde. Le influenze, appunto ti dicevo prima questa cosa che noi abbiamo, questo zoccolo siciliano, questa melodia, questo tempo di imbattere che potrei definire un regsiculo, cioè contaminato. A volte è folk, a volte può essere pop, a volte può essere blues, è un po' una miscellania di tante cose. Wow, che domanda! Tantissimo, perché intanto c'è questo pregiudizio, no? Cioè la lingua siciliana non è nazionale. Cioè c'è molto, come dire, i discografici sono molto riluttanti a produrre un progetto di questo genere. Però il pubblico no. Il pubblico è disponibile anche perché noi siamo festosi. Quando facciamo i concerti la gente è motivata, acquista i cd, eccetera, eccetera. Quindi siamo una realtà autoprodotta, però c'è una realtà autoprodotta che tra breve faremo un contratto con un'etichetta discografica, siamo MC Music di Marco Camasso e quindi iniziamo di spaccare. Siamo una bella famiglia We are a beautiful family Siamo una bella famiglia We are positive Ma altri progetti intanto c'è l'idea di presentare questo, il nuovo album che chiuderà appunto la trilogia e dopo di questo iniziamo una promozione di quella un po' esagerata. Cioè nel senso che faremo promozioni in radio, interviste, avremo un ufficio stampa. Stiamo cercando di fare, di emergere in tutti i modi perché la nostra musica siamo comuni che vale. Un saluto ai fans di Urban Week, baci e un fantastico destino per tutti.